E' stata presentata ieri alla Camera di Commercio la nuova strategia di Sac e Soaco, le società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso che puntano ad una visione condivisa. Il presidente del distretto pescaturismo Fabio Nicosia si dice soddisfatto per il buon lavoro svolto dall'ente che ha portato a buon fine tutti i bandi di gara già assegnati e operativi. Beni per un valore di 400.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad un noto legale Ibleo, l'uomo accusato di frode fiscale nell'esercizio della professione. Il presidente della CNA di Comiso Giovanni Calogero chiede a tutti i consiglieri di compiere uno sforzo e di essere presenti in aula venerdì quando il PRG dovrebbe essere esitato. Il regista Alberto Sironi da ieri è cittadino onorario di Vittoria. La cerimonia di conferimento sobria ma sentita si è svolta ieri pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonio Abad. Ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione, è stata presentata ieri alla Camera di Commercio di Ragusa la nuova strategia di SAC e SOACO, le società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso che puntano ad una visione condivisa per far crescere entrambi gli scali. Si è svolta ieri a Ragusa nella sala consiglio della Camera di Commercio una conferenza stampa nel corso della quale i vertici delle società di gestione degli aeroporti di Catania e di Comiso, Salvatore Bonura presidente e Ghietano Mancini amministratore delegato per SAC e S.P.A. e Rosario Di Bennardo presidente ed Enzo Taverniti amministratore delegato per SOACO e S.P.A. hanno illustrato la visione condivisa in grado di valorizzare il sistema aeroportuale integrato della Sicilia orientale. Ad introdurre i lavori il presidente dell'ente camerale Ibleo Giuseppe Giannone che si è soffermato sull'importanza di poter contare su un unico sistema aeroportuale integrato del sud-est siciliano anche alla luce dell'accorpamento tra le camere di commercio di Ragusa e Catania. Il più alla torre, ha detto invece il presidente di SOACO Rosario Di Bennardo, è stato inserito nel piano nazionale degli aeroporti proprio nell'ottica di un sistema integrato con Catania. Se la collaborazione Comiso-Catania ha già portato allo sviluppo di entrambi gli scali, adesso il nostro piano industriale sarà parte integrante del piano della SACO e sarà unica anche la strategia commerciale. Ci saranno insomma due persone che lavoreranno insieme per cercare di intensificare il traffico sia su Comiso che su Catania. È opportuno che una volta per tutte, ha aggiunto il sindaco di Comiso Filippo Spataro, le due aerostazioni si specializzino per evitare di creare confusione o malintesi che non hanno ragione di esistere. Spataro ha inoltre annunciato di aver già chiesto ad un tecnico una valutazione delle quote di SOACO di proprietà del comune di Comiso, al fine di avviare la costituzione di una holding dei comuni che allarghi la base pubblica della società di gestione. SAC ha investito soldi in SOACO, ha detto l'amministratore delegato Gaetano Mancini. La società dunque non è interessata a perderli. Ci siamo confrontati col management di SOACO ed oggi lanciamo una strategia. Mancini poi ha sottolineato la necessità di collegare Comiso ad un sistema infrastrutturale siciliano, altrimenti lo scalo non potrà crescere. Il presidente del distretto pescaturismo Fabio Nicosia si dice soddisfatto per il buon lavoro svolto dall'ente che ha portato a buon fine tutti i bandi di gara già assegnati e quindi operativi. Lo stesso Nicosia poi annuncia i prossimi obiettivi. Il 28 maggio scorso, giorno dalla mia elezione, a presidente del distretto pescaturismo e cultura del mare, ho promesso di accelerare sulle pratiche burocratiche in itinere e di dedicarmi all'attivazione immediata dei progetti in corso. In meno di due mesi posso comunicare con soddisfazione di avere portato a buon fine tutti i bandi di gara e che sono stati assegnati e quindi già operativi. Così Fabio Nicosia, che presenta alcuni progetti già avviati o in corso di avvio, portate avanti, sottolinea, grazie alla collaborazione dalla competenza delle stazioni appaltanti, comuni di Vittoria e Ustica e al lavoro dell'amministratore delegato del distretto Giovanni Callea. Fra i successi Fabio Nicosia cita la realizzazione di un sito istituzionale e un sito web commerciale, la realizzazione di pacchetti turistici e l'individuazione delle eccellenze che possano conferire ai pacchetti le auspicate caratteristiche distintive, attività di promozione e marketing in varie destinazioni europee, attivazione di infopoint nei comuni di Santa Croce, Pozzallo, Vittoria Augusta Pachino e l'analisi quantitativa e qualitativa dell'offerta turistica delle città del distretto. Relativamente a quest'ultimo punto, aggiunge e chiederò alla Soaco di affidarci uno spazio per accogliere i passeggeri in arrivo a Comis e promuovere così il territorio, di concerto con il distretto turistico degli Iblei e con i GAC ricadenti nei territori dei comuni del distretto. Sono disposto ad investire eventuali economie del progetto, dice, per l'apertura di un infopoint supplementare nel nostro aeroporto. Nei prossimi giorni, annuncia, illustreremo i dettagli delle variazioni e presenteremo in conferenza stampa, insieme ai sindaci dei comuni interessati, l'apertura dei punti informazione. Spazio alla cronaca adesso, beni per un valore di 400 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza preventivamente ad un noto legale ebleo. L'uomo è accusato di frode fiscale nell'esercizio della professione. I finanziari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione lo scorso martedì ad un decreto di sequestro preventivo di beni dal valore complessivo di 400 mila euro, nei confronti di un noto legale ebleo, reo di una rilevante frode fiscale nell'esercizio della professione. Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, Andrea Reale, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Valentina Botti, è stato eseguito dagli uomini della Compagnia di Ragusa nei confronti del rappresentante legale di uno studio legale associato ragusano, ritenuto responsabile di una ingente evasione fiscale. Il reato sarebbe emerso al termine di un'attività di verifica eseguita dalle stesse fiamme gialle e riguardante le annualità di imposta 2011, 2012 e 2013. In particolare al professionista e ai militari hanno contestato l'infedele presentazione delle dichiarazioni modello unico per società di persione per le annualità 2011-2013, per aver omesso di indicare nelle stesse elementi attivi, con rispettivi di prestazioni professionali non dichiarate per circa 1.800.000 euro. A queste somme si è giunti dopo l'analisi di una serie di operazioni diversamente effettuate sul conto corrente ma non giustificate. Inoltre, al fine di rendere inefficace la pretesa erariale, gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno anche rivelato che il professionista rappresentante legale dello studio legale associato, sottoposto ad accertamenti fiscali, nel tentativo di sfuggire alle responsabilità penali e fiscali, aveva deliberatamente cessato l'attività professionale nell'aprile del 2014, ma ha continuato di fatto a svolgere la professione con una nuova partita IVA e con nuovi associati. La Polizia di Stato ha arrestato a Pozzallo Fabio Di Filippo. L'uomo deve scontare una pena di 5 anni e 10 mesi. Ex maresciallo della Capitaneria di Porto in servizio a Pozzallo aveva commesso numerosissimi reati, per questo era stato più volte arrestato e poi congedato per i reati commessi, corruzione, uso di atto falso, truffa gravata, incendio doloso e minacce gravi, aveva proposto ricorso per Cassazione che esaminandolo lo ha dichiarato inammissibile. All'esito del ricorso dunque la Polizia di Stato lo ha arrestato. Un sorvegliato speciale di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria perché sorpreso a guidare un motorino nonostante non abbia la patente. L'uomo quindi è stato arrestato per aver violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto dei reati da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittoria che sono stati impegnati in controlli a tappeto nei confronti di tutte le persone socialmente pericolose, sottoposte a misure di prevenzione ed a misure di sicurezza. L'attività che si inquadra nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal comandante provinciale di Ragusa ha premesso ai militari di sorprendere nella tarda serata di ieri, un sorvegliato speciale che si trovava alla guida di un motorino senza patente di guida. Si tratta di Marco Giordanella, 34 anni, pregiudicato vittoriese e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L'uomo, tratto in arresto per aver violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale che gli imponevano di restare in determinati orari nel territorio del comune di Vittoria e nello specifico nella propria abitazione, per di più pizzicato alla guida senza patente, è stato condotto nella caserma di via Garibaldi, da dove, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Marco Rota, per i provvedimenti di competenza. L'uomo era già stato arrestato lo scorso aprile, sempre dai carabinieri di Vittoria, quando aveva violato per ben sette volte in sette giorni le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione cui era sottoposto. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti per capire le ragioni per le quali il pregiudicato non si trovasse a casa a quell'ora della giornata. Un tunisino ha arrestato e quattro persone denunciate. Questo è il bilancio dell'attività svolta ieri dai carabinieri di Ragusa, finalizzata al controllo di soggetti pregiudicati. I carabinieri della compagnia di Ragusa hanno schierato ieri un vasto dispositivo finalizzato al controllo di soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi che ha consentito di arrestare un pregiudicato per furto di energie elettriche e di denunciarne a piede libero altri quattro. L'arresto in fragranza è stato operato nei confronti di Wael, Waz, tunisino di 29 anni, con vari precedenti penali per spaccio, atti persecutori, minacce, introduzioni di monete falsificate. L'uomo, fino a pochi mesi fa, era ristretto agli arresti domiciliari e proprio durante un controllo i carabinieri avevano verificato che il gestore del servizio elettrico aveva interrotto la fornitura. Nonostante ciò, nelle settimane seguenti è emerso che in quell'abitazione gli elettrodomestici continuavano a funzionare e la luce continuava ad accendersi. I carabinieri della stazione di Ragusa Ibla hanno quindi proceduto ad effettuare i primi accertamenti investigativi, che hanno confermato la tesi ipotizzata. In quell'abitazione era in atto un'indebita sottrazione di energia elettrica. I carabinieri, pertanto, hanno chiesto il supporto dei tecnici dell'Enel per constatare l'illecito e poter procedere in flagranza. Dai controlli è in effetti emerso che il contatore era stato manomesso da Waz, che si era collegato alla rete elettrica. I carabinieri della stazione di Ragusa Ibla hanno quindi tratto il pregiudicato in arresto per furto aggravato. Al termine delle varie formalità è stato sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del sostituto procuratore Marco Rota. Nel corso dello stesso servizio, altri tre pregiudicati, due romeni e un tunisino, sono stati denunciati per guida senza patente, mentre un quarto, originario di Catania, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato deferito per aver violato le prescrizioni previste. Taglio del nastro ieri per l'area verde Limitrofa al castello di Donna Fugata, che è stata sistemata grazie all'intervento di una società privata. Dopo i lavori di sistemazione, l'area è stata ieri riaperta al pubblico. Inaugurata l'area verde Limitrofa al castello di Donna Fugata, sistemata dalla RC Ristorazione, unica ditta partecipante alla manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati ed associazioni, che l'amministrazione comunale aveva emanato per il recupero del sito. La ditta ha realizzato a proprie spese la pulitura dell'aria, l'assistemazione della vasca in pietra esistente ed ha provveduto a fornire alcuni giochi per i bambini, un'altalena a due posti, uno scivole e due giochini a molla. Il comune di Ragusa, invece, si è fatto carico del trasporto e dell'installazione delle attrezzature. Al taglio del nastro erano presenti l'assessore ai beni culturali, Stefania Campo, e il consigliere comunale, Zahara Federico. È una soddisfazione registrare i buoni risultati che si raggiungono quando si attiva la sinergia tra il pubblico e privato, sottolinea il primo cittadino. Il nostro intento era quello di recuperare e valorizzare uno spazio abbandonato da offrire alla fruizione dei cittadini e dei turisti che vengono a visitare il castello di Donna Fugata. Ringraziamo la ditta che ha curato il recupero, ha detto ancora il sindaco Piccitto, la quale ha mostrato disponibilità e sensibilità rispetto a un tema così importante come quello della valorizzazione dei nostri beni pubblici. Il presidente della CNA di Comiso, Giovanni Calogero, chiede a tutti i consiglieri di compiere uno sforzo e di essere presenti in aula venerdì al Consiglio Comunale quando il PRG dovrebbe essere esitato. Il presidente della CNA territoriale di Comiso, Giovanni Calogero, chiede a tutti i consiglieri comunali di compiere uno sforzo e di essere regolarmente presenti in aula per la giornata di venerdì quando, così come previsto, lo strumento urbanistico dovrebbe essere finalmente esitato. Tutto ciò, tra l'altro, servirebbe a scongiurare l'arrivo del commissario e le possibili conseguenze negative con ricadute pesanti per gli operatori del comparto. E' questo il senso dell'appello lanciato dei rappresentanti istituzionali di Palazzo di Città in prossimità di una scadenza di fondamentale importanza per il futuro del PRG. Anche noi, come CNA, continuo Calogero, abbiamo presentato le nostre osservazioni così come hanno fatto numerose altre realtà presenti in città. E se il Consiglio Comunale non assumerà relativa decisioni rischiamo di rimanere senza alcun tipo di risposte sul piano operativo. E' ovvio che tutto ciò non sarebbe ammissibile alla luce delle notevoli difficoltà con cui continui a fare i conti il comparto delle costruzioni. E' indispensabile che le nuove modifiche del PRG possano essere finalmente esitate per dare un minimo di respiro e di speranza agli operatori di un settore duramente provato dalle gravi difficoltà economiche che continuano a persistere. Il regista Alberto Sironi da ieri è cittadino onorario di Vittoria. La cerimonia di conferimento si è svolta proprio ieri pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Si è svolta ieri sera la cerimonia di assegnazione della cittadinanza onoraria ad Alberto Sironi noto soprattutto per essere il regista della serie televisiva e il commissario Montalbano. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Sant'Antonio Abate ed è iniziata con la proiezione di un video contenente le scene della fiction girate a Vittoria ed alcune foto del backstage che ritraggono attori vittoriesi impegnati sul set. Per il regista un riconoscimento molto sentito. I film a Vittoria ne ho già girati 3-4 in varie situazioni e siamo venuti e abbiamo anche creato qualche problema. Abbiamo girato di notte, abbiamo sparato, abbiamo bloccato le strade. Ci torno sempre molto volentieri a Vittoria perché la gente mi accoglie con gentilezza, con carreria. Poi ho conosciuto il vostro sindaco che è una persona straordinaria e quindi sono molto onorato di ricevere questa cittadinanza. A spiegare le ragioni di questa scelta è il sindaco di Vittoria. È con piacere che conferiamo la cittadinanza onoraria al regista Siromi, il regista di Montalbano proprio perché riteniamo intanto di ringraziarlo per aver girato diverse scene a Vittoria che sappiamo non è certamente il luogo principale ma è stato anch'esso toccato da questa fortunatissima e importante serie televisiva. Riteniamo che sia stato un gesto non solo importante inserire Vittoria nel circuito di Montalbano ma sappiamo che in realtà questa trasmissione televisiva, questo serial e questi film hanno recato più vantaggi alla provincia di Ragusa e alle nostre zone di qualunque iniziativa di promozione turistica e di qualunque assessorato al turismo regionale, provinciale o comunale. Sarà inaugurato lunedì prossimo il campo sportivo polivalente Emaia di Vittoria intitolato a Marco Verde. Si tratta di una struttura realizzata nell'ambito del progetto quadro Io Gioco Legale finanziato dalla Regione e dal Ministero dell'Interno. L'inaugurazione è in programma alle ore 19. Al termine sono in programma poi esibizioni di calcio a 5, basket e pallavolo delle società di Vittoria. Alla cerimonia parteciperanno anche i familiari del Carabiniere cui è intitolata la struttura. Via Almirante a Ragusa senza toponomastica a sollevare la questione il consigliere Mario Chiavola ha sollecitato da alcuni cittadini che hanno denunciato la mancanza di una tabella. Vediamo. Il presidente dell'associazione Ragusa in Movimento Mario Chiavola ha sollevato la questione dopo che alcuni residenti si sono rivolti a lui per mettere in rilevo un'anomalia ovvero la mancanza della tabella toponomastica all'ingresso di via Giorgio Almirante proprio accanto alla scuola Quasimodo. Un piccolo problema che chiediamo possa essere risolto. Lo facciamo pubblicamente visto che le sollecitazioni formali attraverso l'utilizzo dei canali consigliati della stessa amministrazione comunale come ad esempio internet non sono serviti a niente. Beninteso prosegue Chiavola si tratta di un problema non certo di importantissima rilevanza ci sono altre priorità in città ma sarebbe opportuno che anche a cominciare da queste piccole cose l'amministrazione comunale potesse fornire delle risposte efficaci. Sono certo che non ci vorrà poi tantissimo per recuperare la tabella della toponomastica e garantire la dovuta dignità a questa arteria stradale che sorge nella parte alta della città. Uniti dalla passione per il canto e la musica il coro Marielle Ventre di Ragusa diretto da Giovanna Guastella e le Cœurs de Paulison di Parigi diretto da Elisabeth Lentrigot hanno stancito la propria collaborazione con un gemellaggio esibendosi insieme a Parigi lo scorso martedì 14 luglio in occasione della festa nazionale francese. L'appuntamento ha rappresentato uno speciale momento d'incontro scambio e arricchimento culturale oltre che musicale. Apprezzamenti per l'esibizione e per la presenza dei coristi blei da parte dell'amministrazione locale presente con il sindaco del ventesimo Arron d'Isemont e di altri amministratori. La direttrice del coro Marielle Ventre ha consegnato al sindaco parigino a nome del sindaco di Ragusa Piccitto una riproduzione del portale di San Giorgio. è emozionante la parte finale del concerto che ha visto uniti due cori nell'esibizione dei rispettivi inni. Lo scambio musicale proseguirà a febbraio del prossimo anno quando il coro francese si esibirà in concerto a Ragusa. Rivediamo ora i fatti in primo piano. È stata presentata ieri alla Camera di Commercio la nuova strategia di SAC e SOACO le società di gestione dei aeroporti di Catania e Comiso che puntano ad una visione condivisa. Entrambi i vertici delle due società hanno illustrato il progetto che punta ad un lavoro che valorizzi il sistema aeroportuale integrato della Sicilia orientale il tutto anche alla luce dell'accorpamento delle due Camere di Commercio. Il presidente del distretto pesca-turismo Fabio Nicosia si dice soddisfatto per il buon lavoro svolto dall'ente che ha portato a buon fine tutti i bandi di gara già assegnati e operativi. In meno di due mesi dal mio insediamento avvenuto il 28 maggio scorso dice Nicosia posso comunicare con soddisfazione di avere portato a buon fine tutti i bandi di gara e che questi sono stati assegnati e quindi sono già operativi. Beni per un valore di 400.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad un noto legale Ibleo l'uomo è accusato di frode fiscale nell'esercizio della professione. Il reato sarebbe emerso al termine di un'attività di verifica eseguita dalle fiamme gialle e relativa al periodo 2011-2012 e 2013. In questo caso sono state analizzate anche le operazioni di versamento effettuate sul conto corrente. Il presidente della CNA di Comiso Giovanni Calogero chiede a tutti i consiglieri di compiere uno sforzo e di essere presenti in aula venerdì quando il PRG dovrebbe essere esitato. Tutto ciò a suo dire servirebbe a scongiurare l'arrivo del commissario ad acta e le possibili conseguenze negative con ricadute pesanti per gli operatori del comparto edilizio da qui l'appello del presidente della locale CNA. Il regista Alberto Sironi da ieri è cittadino onorario di Vittoria. La cerimonia di conferimento sobria ma sentita si è svolta ieri pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonio Abate. L'appuntamento è iniziato con la proiezione di un video contenente le scene della fiction girate a Vittoria ed alcune foto dei backstage che ritraggono attori vittoriesi sul set impegnati in una delle fiction più amate d'Italia. E' tutto, grazie per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.